Il destino di Gianluca Lapadula adesso, ai colori rosso-neri del Milan, l'attaccante del Pescara, si trasferisce a Milano beffando le speranze del Napoli di accaparrarsi il bomber di Serie B. L'accordo trovato in serata, 10 milioni di euro alla società biancazzurra di Daniele Sebastiani per l'acquisto a titolo definitivo. Strano caso quello di Lapagol, da un diavolo, quello del Teramo, ad un altro, quello del Milan, in mezzo a una cavalcata trionfale a dorso del delfino pescarese. Chissà se anche stavolta le profezie della zia ci hanno messo lo zampino, con De Laurentiis che avrebbe preso anche Caprari e Zampano nella mega operazione, con questi due da rigirare comunque per un altro anno alla corte di Massimo Oddo. Operazione Lampo, nel primo pomeriggio i primi sentori dell'area che ispirava forte verso un accordo sorprendente, proprio mentre Genoa e Sassuolo si rifacevano sotto e i partenopei iniziavano a spazientirsi per una decisione che stentava ad arrivare. Come tutte le operazioni concluse da un mese a questa parte, la dirigenza del Milan ha concordato questo ingaggio con i rappresentanti dell'accordata cinese in trattativa per l'acquisto del 70% del club. Ma da questo momento il Pescara potrà iniziare a ragionare sul sostituto del suo ormai ex bomber, che stamattina sosterrà le visite mediche con la società rossonera e solo dopo potrà porre la sua ferma, tanto agognata da così tante squadre, sul nuovo contratto con il club di Via Turati.